Secondo la CGL Teramana, il piano di riordino del sistema ospedaliero, così come messo in campo dalla regione Abruzzo, non presenta un'equa distribuzione assistenziale sul territorio e penalizzerebbe in maniera pesante la provincia di Teramo. E questo è il punto nodale del documento che il sindacato ha preparato e che sottoporrà l'attenzione dell'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci e del presidente della regione Luciano D'Alfonso. Il documento della CGL elenca punto per punto le criticità, a partire dai mille posti letto messi a disposizione dei privati, di cui non si terrebbe conto, per passare ai presidi di pronto soccorso di Atri Giulianova e Val Vibrata, insufficienti rispetto alle direttive del decreto Lorenzin e alla massa di persone che vi si affollerebbero, per finire con la mobilità passiva verso le Marche e gli ospedali delle altre ASL regionali. Il tutto per dire che è necessario un coordinamento regionale in grado di rendere i servizi uniformi sul territorio e altrettanto indispensabile è la riconversione territoriale delle prestazioni effettuate in ospedale, che secondo la CGL ridurrebbe l'adegenza e i tempi di attesa, migliorando l'appropriatezza delle cure. Ma la CGL non è contro l'ospedale unico, la CGL è contro la politica dei due tempi. In Italia si è sempre fatto così, si è sempre fatto la politica dei due tempi, cioè prima i sacrifici e poi eventualmente le cose. Il problema è che si è giocato sempre, esclusivamente, il primo tempo. La provincia di Teramo, che è stata quella che è stata più penalizzata negli anni passati per quanto riguarda le scelte sanitarie, rispetto anche al riordino che questa regione sta facendo, viene ancora più penalizzata, non tenendo conto che comunque la nostra provincia è anche una provincia di frontiera. l'alza di terra, ma ogni anno 60 milioni di euro di mobilità passiva. Queste scelte rischiano di aumentarle.